Ennesi Marissa in centro da Biategrasso, un 38enne al pronto soccorso per una ferita d'arma da taglio e nella concitazione è stato anche investito un cane. Ancora violenza quindi nel centro della città con l'ennesima rissa che si è scatenata nella serata di domenica in via Legnano, protagonisti alcuni extracomunitari che sarebbero venuti alle mani al culmine di un litigio. A un certo punto qualcuno ha tuttavia estratto anche un'arma da taglio e a avere la peggio sono stati un 36enne e un 38enne entrambi di nazionalità egiziana. Il secondo ha necessitato l'intervento dei soccorritori di Ata che lo hanno condotto in codice giallo all'ospedale Fornaroli di Magenta per via di alcune ferite rimediate al volto e alla testa. Il 36enne non ha poi avuto bisogno di finire al pronto soccorso sulla rissa scatenatasi tra persone che potrebbero aver avuto delle frizioni in passato certamente favorita dal consumo di sostanze alcoliche. Stanno ora indagando i carabinieri di Biategrasso che stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. È stata nel frattempo identificata la donna al volante della Rino Clio che proprio nel luogo in cui stava venendo la rissa ha investito un cane per poi darsi alla fuga. L'animale era a passeggio con il padrone, un nordafricano residente poco distante il quale notata l'aggressione in corso avrebbe anche cercato in qualche modo di intervenire per separare i litiganti. Proprio in quel momento è sopraggiunta la vettura guidata dalla donna che ha travolto il cane. È stata lei stessa a chiamare il comando spaventata e sotto sciocchi. Il cane non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.